Il mercato, costruito con l'aiuto svizzero, è un punto d'incontro agli abitanti della capitale, il cui numero si è raddoppiato negli ultimi 15 anni. Ciò ha spinto il governo ad attuare una politica di decentramento economico ed amministrativo, appoggiata anche dalla cooperazione svizzera. Nelle immagini una riunione nella capitale, guidata da responsabile del pub, programma di promozione dell'artigianato del Burkina, Patrick de la Land. Alla riunione partecipano artigiani e cooperatori venuti da tutto il paese. Tra i temi in discussione c'è l'adesione alla Confederazione degli Artigiani dell'Africa Occidentale e la preparazione dell'annuale Fiera dei Manufatti, che si svolge nella capitale ad ottobre. Per l'occasione si costruirà un apposito edificio. Lasciamo la città ed incontriamo la savana, popolata da miriadi di piccole comunità agricole a conduzione familiare. L'agricoltura occupa l'84% della popolazione, mentre l'11% lavora nei servizi e solo il 5% nell'industria. Il Burkina esporta cotone, bestiame d'oro, una risorsa non sfruttata appieno per le carenti infrastrutture. A Kudubu, cittadina di 70.000 abitanti, incontriamo il responsabile locale del pub, Tomas Tsung-Runa. L'aiuto svizzero, dice Tomas Tsung-Runa, è multiforme. I sostegni sono di ordine economico, finanziario ed organizzativo. Per l'aiuto economico abbiamo un nucleo di persone che informa sulla manutenzione dei ferri del mestiere, come usare il modo razionale, come tenere rapporti economici col mondo esterno. I sostegni di ordine tecnico permettono iniziative di aggiornamento professionale. L'aiuto finanziario offre a quegli artigiani che hanno un mercato, ma non i mezzi per decollare, prefinanziamenti in collaborazione anche con altre strutture specifiche. Così si fa decollare il lavoro e una volta realizzati e venduti i prodotti verranno rimborsati i finanziamenti. per loro permette di avere dei prefinanziamenti e di dimarare dei lavori che hanno rimborsato la preproduzione e venduto i prodotti in questione. Una statuetta di cera che verrà realizzata in bronzo. A modellarla è Abdullah Gandemah, un artigiano del bronzo per tradizione familiare che lavora secondo l'antica tecnica della cera persa. La sua è una piccola impresa a conduzione familiare che si tramanda di padre in figlio. Non ha perciò bisogno di essere lanciata, ma di trovare accesso ad un mercato più vasto. E ha bisogno inoltre di essere gestita in modo più razionale e redditizio. Anche le donne fanno la loro comparsa nella microimpresa come Felicitetti e André Brogò che cinque anni fa ha aperto questa sartoria a Kudogu che confeziona abiti sia femminili che maschili. E il lavoro non le manca. Il lavoro manca invece soprattutto per i giovani nella capitale. Ce ne parla Joannis Tapsobah, un collaboratore di un'organizzazione svizzera non governativa chiamata Nouvelle Planète, un altro aspetto della cooperazione elvetica in Burkina. Attualmente anche noi che siamo nella capitale, dice Joannis Tapsobah, la maggior parte di noi ha difficoltà a trovare un lavoro. Il 45% dei giovani è disoccupato. A scuola hanno imparato a leggere e scrivere e parlare francese ma non un mestiere e hanno dimenticato così come si lavora la terra. Perciò noi abbiamo creato degli orti scolastici in cui i ragazzi dopo i corsi possono coltivare le verdure, cosa che migliora anche la loro mensa scolastica. Ciò fa sì che i ragazzi che non hanno successo a scuola possono almeno farsi un orto a casa. Creiamo anche dei vivai in modo che i ragazzi imparino ad amare gli alberi e ne seguono lo sviluppo fin dalle piantine. La sensibilizzazione sulla lotta contro la desertificazione deve cominciare tra i giovani perché saranno loro a gestire la natura domani. Tra le iniziative di Nuovel Planete ce n'è una a favore dei ragazzi della strada, un fenomeno nato da poco ma che toccherebbe già 3.000 bambini. Le famiglie non possono mantenerli e li mandano nella capitale allo sbaraglio dove vivono gli espedienti e non pochi scoprono nella colla una droga a buon mercato. L'associazione Chisvet Sida in collaborazione con Nuovel Planete ha creato il centro Beong Nere che significa la felicità di domani in cui una trentina di ragazzi tra i 5 e i 16 anni vengono alfabetizzati. Si cura anche il legame con la cultura tradizionale che la famiglia non ha potuto trasmettere per esempio attraverso la musica. Nel centro Beong Nere che si trova a Cambuazene a 10 km dalla capitale i ragazzi imparano anche a curare l'orto ed allevare il bestiame. In Burkina c'è bisogno di una modernizzazione dell'economia agricola che oggi preoccupando i quattro quinti della popolazione rappresenta solo il 32% del prodotto interno lordo mentre i servizi in cui è impiegato solo l'11% degli abitanti del paese realizzano il 44% del PIL. Le conoscenze pratiche acquistate al Beong Nere faciliteranno il rinserimento dei ragazzi nelle comunità di origine. Torniamo ai programmi governativi svizzeri questa volta finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla promozione dell'agricoltura. Qui la cooperazione elvetica collabora strettamente con una struttura del Ministero dell'Ambiente il FER Fondi dell'Acqua e dell'Equipaggiamento Rurale sempre in lotta contro la siccità e la desertificazione. A Pesulì ci accoglie la comunità al completo riunita sotto l'albero piombroso della zona il luogo in cui vengono di regola discusse tutte le questioni che riguardano il lavoro e la convivenza. Un comitato di quattro persone gestisce il programma di aiuti che è scalato su tre anni. Nel primo anno si sono costruiti pozzi d'acqua e una scuola nel secondo i vivai e pozzi neri e preparati i vivaisti, le elevatrici e il comitato di gestione di cui fa parte per statuto una donna e qui le donne fanno sentire la loro voce ma decidono poco. Su di loro ricade però la maggior parte del lavoro dei campi e degli orti. Nel terzo anno di attività è stata costruita una maternità si è dato inizio all'alfabetizzazione e si sono organizzati prestiti per sostenere iniziative specifiche del villaggio. Parallelamente al comitato di gestione ci sono un raggruppamento rurale uomini di 32 membri con potere decisionale. L'organizzazione degli anziani di tipo informale con potere consultivo e raggruppamento rurale donne con 116 membri che non ha nessun potere. La lotta alla desertificazione è uno degli obiettivi prioritari della comunità. Una serie di dighette parallele impedisce al vento del Sahara l'armatà di depositare la sabbia sul terreno e soffocare le culture. Alla costruzione delle dighette partecipa tutta la comunità. Questo lavoro è stato preceduto dalla sistemazione del territorio che è stato reso piano e regolare con l'eliminazione di sassi e detriti. Un'altra priorità è l'alfabetizzazione non solo dei bambini ma anche degli adulti. Solo così sarà possibile allargare la base di gestione del progetto e responsabilizzare un maggior numero di persone.